Insomma, questo tesorito secondo voi c'è o non c'è? Ma noi parliamo di cose reali. Le cose reali sono 17 milioni di euro, un emendamento del Movimento a sostegno delle ciclabili, per lo sviluppo di ciclabili, che è passato, c'è un risultato del Movimento 5 Stelle, è passato, ma è bloccato in questo Ministero delle Infrastrutture, forse erano troppo occupati a difendere in calza e altri ladri di quattri minutrici. Ecco, queste sono cose importanti. I tweet di Renzi, ogni volta che fa un tweet, viene smentito dalla realtà, per cui francamente non possiamo commentare le balle del Presidente di Consiglia. Posto? Oh, grazie a voi. Buona domenica. Grazie a voi. Grazie, vediamo. Buona domenica.